Qui ho alcuni bollettini che facciamo nella media e alta valle di comunicazione di tutta la vita religiosa, sociale, ci lavoriamo molto perché sia un organo di comunicazione, un organo che l'hanno distribuito con molto ritardo. Non mi stacco di dire uno dei primi che l'ha ricevuta, e lo so con certezza, il bollettino è arrivato in Olanda, dove abbiamo un lavoramento, e con difficoltà è arrivato a Busca per un euro. Qualcuno oggi prima di averlo arrivato ieri, anche in Olanda è arrivato molto da qui. Speriamo che l'Europa Unita ci sia l'ultima. C'è la versione web, c'è su internet. Ce l'abbiamo su internet il bollettino, eh, però. Demetrio che sta fotografo, Demetrio viene qui. Demetrio è colui che ci lavora molto, del suo lavoro, e se qualcuno volesse fare l'abbonamento di Giovanni o non anche parlare con lui, eh, Demetrio, vieni qui per favore, Demetrio lo sanno di senso, eh. Si incastrato. Io...